ARIOTA! ARIOTA! Che ci fai, Jackie? Dovevi arrivare stasera? Sorpresa. Mi sei mancata. Ciao. Io credo che aspetterò fuori. Taghevi Benios. Sono quello vecchio. Davira Yobi. Sono quello nuovo. Che è successo? C'è stato un cedimento, ma non si è fatto male nessuno. Perché dovete andarci? Non c'è già qualcuno. Non conoscono la montagna come friga. Resta calma. Quanti sono ancora dentro? 108 minatori e 4 della squadra di soccorso. Che posto è questo? Kiruna farà la stessa fine se non la spostiamo. Dobbiamo evacuare. C'è una faglia enorme, proprio sotto Kiruna. La città collasserà. La città collasserà.